Ciao ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, io sono Cecchinato e oggi siamo qui in un nuovissimo video dedicato a Brawl Stars per andare a vedere innanzitutto una nuova stagione che è uscita e anche ragazzi dei QR code che potete tramite la scansione ovviamente quest'ultimi ottenere delle ricompense proprio su Brawl Per iniziare fondamentale like il vostro supporto mi raccomando con un'iscrizione al canale con la campanellina per non perderti le prossime news, leak, ricompense dedicate a Brawl e anche gli shorts mi raccomando che trovate comunque di solito ogni giorno Detto questo possiamo subito incominciare Manca pochissimo ragazzi al nuovo pass battaglia, vediamo un po' 40 secondi e avremo il nuovo pass Tra l'altra cosa abbiamo anche raggiunto i 20 milioni download preordine anzi per quello che riguarda il nuovo gioco della Supercell e il prossimo ovviamente quindi la skin di Shelly Che avevamo visto anche nel scorso video e il gameplay veramente molto molto chiarina 30 milioni credo che siano abbastanza raggiungibili secondo me vedremo se riusciamo scusate a raggiungerli Il fatto sta che oggi però ci apriremo questi bellissimi 10 star drop e il pass Ovviamente che esce quindi lo andremo a vedere Eccolo qui 3 secondi vediamo se cambia automaticamente ma credo proprio di sì Eccolo qui pass attivato in che senso pass attivato mi dice Vabbè credo quello ovviamente free perché ovviamente infatti quello premium io non ce l'ho quindi Tante cose ci ha già sbloccato Questo no questo sono tutti i livelli ok che dobbiamo fare aspettate che lo riclicco Ah ok infatti mi diceva pass completato mi sembrava un po' strano 500 punti energia io direi che ce li prendiamo super volentieri così ci miglioriamo anche un brawler Questo ragazzi è il pass quello sopra ovviamente a pagamento quello sotto è gratis Gli diamo giusto un'occhiata ma sono comunque sempre le solite ben o male ricompense cambiano ovviamente Le emoticon insomma che vengono date però il resto è praticamente Uguale a quello degli scorsi qua abbiamo anche le skin di questo brawler Poi ovviamente con la cromata avete ovviamente il pass più grande Poi insomma finisce sempre con un bel brawler anzi un bel star drop leggendario Si resetta anche ovviamente la classificata quindi adesso ce ne ritorniamo in bronzo E direi che ci apriamo però adesso i 10 star drop E poi vi faccio vedere ovviamente le 5 anzi le 4 ricompense tramite il queer code Che sono anche quelle molto interessanti vediamo Uh eccolo qui 10 premi star li abbiamo già nel negozio Vediamo se c'è altro di interessante ma no Abbiamo i nostri crediti che prendo volentieri E tra l'altro sto sbloccando anzi abbiamo sbloccato anzi stiamo per sbloccare Maxime Poi anche se ho offerto da 39 gemme Fatemi sapere voi se avete qualcosa di interessante Ma detto ciò io mi apro volentieri questi 10 star drop Vai iniziamo con il primo speriamo di trovare qualcosettina almeno di mitico Non chiedo molto vediamo Sicuro sono tutti rari ma Tutta roba si ok il doppio Oh leggendario ragazzi è arrivato E' leggendario vediamo un po' cosa ci può arrivare E' un nuovo brawler mi sa Ah si un nuovo brawler Nuova anzi nuova skin Bombardino Signor Unicorno Cos'è sta skin Bruttissima delle altre cose Leggendaria pure Mamma mia Pensa Che orrore Trovarsi questa roba è una roba leggendaria Veramente raro Super raro Vediamo 100 monete Ok queste sono Comunque molto molto importanti Sempre questi doppi xp Se non ci interessano più ritardo Grazie mille Diamo questo Ok solo questo Cioè ci danno solo questo in poche parole 50 monete Epico Vediamo un po' cosa ci dà di epico Cos'è una nuova skin Sicuro Nuova skin Ok sempre l'unicorn Mi danno solo skin degli unicorni Mi fa molto piacere E abbiamo finito il star drop Ok Qua poi Abbiamo anche però Attenzione 200 monete E un altro star drop Non finisce qui Vediamo un po' questo 200 monete Cosa ci regala Super raro Vediamo Vediamo un po' Punti energia Super utili E niente ragazzi Questi erano i miei 10 star drop Ci siamo trovati direi un bel po' di unicorni Nel pack Che vediamo subito Ah non è questa Ma non è la skin di Ma che skin Ma è un nuovo brawler o no Chi era la skin che ho trovato Scusate raga Mi viene il dubbio Se non è stecca chi è Ci dovrebbe essere un punto esclamativo Un qualcosa Ok l'ho trovato Sì Non me lo ricordavo Che era il bombardino Eccola qui Ok strano Strano Insomma Molto strano come skin Un'icona ragazzi Come Tra le altre cose La nuova skin che ho trovato Anche di Bonnie Mi sembra che sia Anche questo ragazzi Unicorno Quindi abbiamo trovato Un po' di unicorni In questo pack opening Detto questo Vi porto però adesso A vedere anche Le quattro ricompense Con il QR code Eccole qua ragazzi Ovviamente serve un dispositivo Quindi fate Che prendere il vostro telefono Con La fotocamera Vi dovrebbe già apparire La possibilità di scansionare Questi QR code Una volta scansionati Vi portano direttamente Su Brawl Stars Ok Quindi Una volta che vi porta Su Brawl Stars Vi riscattate Una a una Le ricompense Comunque Il primo è questo Quindi Vi do giusto qualche secondo Poi mettete in pausa Chiaramente Il secondo è questo Che è Un uovo Il terzo è questo E poi Infine Abbiamo il quarto Che è un'emota Anche molto carina Del pagliaccio Così potete fare Insomma Un po' I tossicelli Nelle varie partite Detto questo Queste sono quindi Le quattro ricompense Riscattatele Mi raccomando Fatemi sapere Poi qua sotto Se le avete prese Noi ci salutiamo Ci vediamo ovviamente Prossimamente Con nuove news Fatemi sapere Cosa ne pensate Del pass E cosa avete trovato voi E 10 salt drop E 10 salt drop Grazie a tutti.